Amici di PhoneFixer, buon pomeriggio, finalmente è arrivato nei nostri studi quello che io chiamo il mostro. Galaxy Samsung Galaxy S6 Edge Plus, una versione da 32 GB, colorazione silver titanium. Questo è un video unboxing, non voglio anticiparvi niente sul prodotto, aspettiamo la recensione a breve. Iniziamo a mostrarvi cosa c'è nel contenuto, il nostro fantastico Samsung Galaxy S6 Edge Plus Silver Titanium, bellissimo, lo mettiamo da parte. Nello scomparto c'è il sotto del telefono, nello scomparto c'è il pin per la rimozione dello sportellino nano SIM, al di sotto, manualistica, manualistica, garazia, Samsung Service, qui c'è l'italiano, per chi legge di legge, un piacere che c'è, qui abbiamo tre scompartimenti, questo è vuoto perché c'è il cavo, che non lo abbiamo rimesso perché è impressionante, rinserirlo, cavo per la connessione al PC e per il caricatore, cavo di tipo USB standard, quindi non abbiamo il USB type C, caricatore da parete con tecnologia fast charge, quindi caricherà la nostra batteria molto rapidamente. Nel terzo e ultimo scomparto abbiamo le cuffie, cofanetto plastica fantastico, cuffie con tecnologia cavo piatto anti-incarbugliamento, bellissima, vediamo se riusciamo a inquadrarvela, eccoci qua, bellissima la cuffia e all'interno c'è anche una coppia di auricolari per adattare, di gommini per adattare al vostro patigliore auricolare. Confezione classica in cartone, questo è Marchiato Team. Qui ci sono in breve le specifiche tecniche, ve le accenniamo rapidamente, è un device 4G, 64 bit, è un processore octa-core, 4 GB di RAM e un display, un quad HD super AMOLED, fotocamera 16 megapixel, la posteriore 5 e l'anteriore, caricatore, possibilità di caricarlo wireless, 32 GB di memoria e il resto vi rimandiamo alla prossima recensione. Un saluto da Pescara, amici di PhoneFixer, un saluto dal nostro Samsung Galaxy S6 Edge Plus e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!